che ha costituito l'impediente fondamentale della scelta del risultato. Cuffiette, bluut e patigioni auricolari, passo veloce e ben disteso. Questa forza opposta non viene da l'una, proviene da noi stessi, perché l'avete dentro di voi. Quando comprendete che dovete integrare questa forza e non combattere, e non combattere né per l'una né per l'altra, allora comprenderete il messaggio da due mesi fa attraverso questo canale che parlava di due diversi tipi di luce, che è un altro modo per dire che tutto è uno. Applausi Sicuramente questa subia, per rispondere alla tua domanda, mi divertiva, perché mentre stavo appunto murata a guardare Netflix con la prossima che stasera, non ti è tutta una spazzatura, vedevo su Facebook gente che stava tipo Allbox, ad ollo messicano privo di qualunque tipo di...